Il Consiglio regionale del Piemonte rinnova la collaborazione con la Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro di Candiolo. In occasione della trentesima edizione della partita del cuore disputata all'Allianz Stadium di Torino, consiglieri e assessori hanno posato nel cortile di Palazzo Lascaris, uno scatto per promuovere la raccolta fondi a favore della ricerca. Utilizzando il cellulare si possono donare 2 euro alla Fondazione Candiolo, che è la fondazione che in Piemonte sta facendo ricerca sul cancro, perciò il mio invito come Presidente del Consiglio è di donare sempre di più. I fondi raccolti con l'SMS solidale al numero 45527 permetteranno di sostituire una delle due tomoterapie del reparto di radioterapia dell'Istituto di Candiolo, un investimento da 3 milioni di euro per offrire un servizio di alta qualità nei trattamenti radioterapici ai pazienti.